c'ho un problema serio sto a formatare il computer e windows è questo allora devo scegliere tra windows 10 su volume 4 windows 10 su volume 4 windows 10 su volume 4 quindi la domanda è quale delle tre è giusta? io pure per me sarebbe windows 10 su volume 4 scegli un tuo sistema operativo ma guarda un po' potrei scegliere windows 10 su volume 4 vai proviamo con la 1 non so che succederà secondo me esplode buio totale ho scappato fuori da Lamborghini non è bella sta cosa ma 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 Ciao